La sede del soccorso alpine e speleologico deve essere all'Aquila, lo ribadisce in conferenza stampa il consigliere regionale del PD Pierpaolo Petrucci che ha presentato un progetto di legge sul soccorso alpine e speleologico assieme al vicepresidente del consiglio Roberto Sant'Angelo ad Americo di Benedetto. Il progetto va ad integrale la legge regionale 20 del 2014. La localizzazione della sede si legge nel testo del progetto di legge è ricompresa nel patrimonio immobiliare del comune in accordo con esso perché questa proposta, sottolineato Petrucci, trova accoglimento da esponenti anche di altri partiti politici. Una battaglia, ha ricordato, che nasce dal territorio e dall'indignazione della storia della sede a Pescara al di là dei colori politici, come si diceva, e che Pietrucci ha voluto dedicare ad Emilio Ciammetti, il finanziario del soccorso alpino scomparso da poco. Tutte le regioni hanno le sedi del capoluogo di regione, ha ricordato, il comune ha messo a disposizione locali nell'aeroporto di Preturo. È un progetto di legge dettato dalla necessità di ristabilire quelle che sono regole convenzionali ma che vengono in tutte le altre regioni d'Italia ovvero che la sede naturale regionale del soccorso alpino sia nel capoluogo di regione. Ci fu un'interlocuzione costante con il presidente del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino a seguito di quella scelta sbagliata che ha offeso la dignità delle aree interne dell'Abruzzo e soprattutto di tutti gli appassionati di montagna ma della collettività in generale non solo della provincia dell'Aquila e degli abruzzesi che spostava, stabiliva la sede regionale del soccorso alpino a Pescara. Fu una scelta schernita a tutti gli abruzzesi che dicevano allora portate il demanio marittimo, la sede del demanio marittimo all'Aquila, portata la capitaneria di Porta all'Aquila. Ecco, io penso che l'Abruzzo deve tornare a valorizzare i territori in base alle proprie vocazioni. Se come classe politica dirigente saremo in grado di valorizzare le peculiarità dei territori probabilmente potremo porre la fine dei campanilismi e di quei giacimenti di rancore, di livore che pervadono in tutto l'Abruzzo quando si fanno delle scelte inique e delle scelte sbagliate in termini di attribuzione di risorso, in termini di attribuzione di sedi o di risorse umane. I presenti l'hanno definita un'iniziativa congiunta a difesa del territorio e delle aree interne nell'ottica di sempre più progetti e iniziative appunto per valorizzare l'Aquila come città di montagna e per creare anche spazi pubblici come ad esempio una casa della montagna.